Filippo e altri due tuoi gol, però per l'attuale azione non è bastato. Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? Noi sapevamo che nel secondo tempo loro andavano davanti per cercare il risultato e purtroppo non siamo riusciti a fare il terzo gol per chiudere la partita. Con la pressione purtroppo loro hanno pareggiato e dobbiamo continuare lavorando per giocare 90 minuti come abbiamo giocato i primi 45. Avete iniziato benissimo e tu hai fatto due gol a spring? Sì, sono contento per questo, per poter aiutare la squadra a fare due gol e a chiudere bene l'anno, però mi dispiace per il pareggio. Filippo, un bilancio del tuo 2014 e i propositi per il 2015? Il bilancio? Nella fine ho potuto aiutare la squadra in queste tre partite del campionato. Sono contento per questo perché ora è il momento decisivo. Spero di continuare così, di giocare bene, di fare gol, di fare assist e aiutare l'assio. Credete nel terzo posto? Sì, crediamo. Sapevamo che avevamo qualità e sappiamo che possiamo arrivare sì. Grazie. Grazie.